Nicola San Giacomo è uno dei delegati della diocesi di Livorno, in particolare per l'ufficio di pastorale sociale del lavoro e come delegato del progetto culturale diocesano. Come avete vissuto questi giorni? In particolare è emerso di nuovo lo stile della sinodalità. Come l'avete vissuto voi delegati? Sì, lo stile sinodale è uno degli aspetti più importanti che è emerso in questi giorni nel convegno nazionale. Ci sono due immagini per descrivere lo stile che abbiamo vissuto in questi giorni, quella dei tavoli e quello del pulmino. I tavoli è lo stile sinodale vissuto a livello nazionale dove il convegno si è diviso in oltre 200 tavoli di 10 persone ciascuna dove c'erano presenti contemporaneamente vescovi, preti, religiosi, laici, giovani e hanno discusso che per due giorni si sono confrontati alla pari, fianco a fianco. È stata una bella esperienza di confronto ecclesiale. A livello diocesano abbiamo vissuto lo stile sinodale sul pulmino nelle viaggi di andata e ritorno da Firenze dove abbiamo fatto un confronto sinodale tra vescovi, preti, laici, religiosi, giovani.